Vediamo tantissime immagini, continuamente, cosa che invece nel passato non succedeva. Mi ha portato a pensare di andare a ricercare posti desolati e più fermi, più tranquilli. Ciao, sono Sofia, sono una fotografa, una storica dell'arte e vivo a Roma. La cultura classica, posso dire che mi ha influenzato, magari non nei modi canonici del significato, però per le linee geometriche che si possono trovare ovunque, tipiche dell'architettura classica, anche dell'architettura razionalista. La creatività è la libertà, una via di fuga e un tentare di portare qualcosa di nuovo. Essere giovane in Italia vuol dire confrontarsi con la tradizione, che secondo me è molto forte nel caso dell'Italia, e vuol dire quindi confrontarsi anche con quello che c'è stato prima di noi. Gli spazi aperti li vedo a contrasto con quello che vivo tutti i giorni, che è la città caotica, Roma in generale, e invece gli spazi aperti mi danno pace, però allo stesso momento amo anche quando il meteo e il tempo è brutto, perché mi piacciono le montagne, mi piace la pioggia, la neve, la nebbia, perché trasformano il paesaggio esattamente nel suo posto, anche nel giro di pochi secondi. Ciao! Grazie a tutti.